... Sono le 7, buongiorno, giovedì 11 febbraio, è il momento di guardare insieme i titoli dei giornali. Allora, concluso il secondo giro di consultazioni, un secondo giro molto rapido, delle consultazioni fatte da Mario Draghi, il premier incaricato, nelle prossime ore potrebbe salire al Quirinale, a quel punto sciogliere la riserva se appunto accetterà l'incarico e glielo confermerà il capo dello Stato Sergio Mattarella, a quel punto avrà in mano anche la lista dei ministri del nuovo governo e poi nelle prossime ore, secondo le procedure previste, potrebbe già giurare il prossimo governo. Si è sbloccata sostanzialmente la situazione, questo che possiamo dire in sintesi, con una telefonata che ci sarebbe stata ieri sera tra Mario Draghi e Beppe Grillo. Rassicurazioni chieste proprio dal leader del Movimento 5 Stelle da parte del premier incaricato Draghi e a sbloccare la situazione la creazione, a quel punto quasi ufficiale possiamo dire, di un superministero dell'ambiente. Questa è stata la chiave di volta che ha sbloccato tutto, vedremo tra l'altro da alcune ricostruzioni, da alcune retroscena come sono andate le cose nelle ultime ore proprio a proposito del governo. Allora andiamo a vedere subito il Corriere della Sera come titolo, eccolo qui, Grillo spinge per il SIA Draghi. Vi ricordo che oggi ci sarà la consultazione sulla piattaforma Rousseau, la piattaforma che raccoglie il consenso o meno dei riappartenenti al Movimento 5 Stelle e la domanda, il quesito che andremo a vedere poi nel dettaglio che riportano alcuni giornali sarà proprio relativo al sostegno al governo Draghi. Allora, vediamo cosa scrive. Il secondo giro di consultazioni, il PD favorevole, Berlusconi e Salvini dal centro-destra, nessun veto, Meloni non gradisce, lo vedremo, Giorgia Meloni è intervistata dal Fatto Quotidiano, andremo a vedere nel dettaglio che cosa dice. E poi il Via Libera al Ministero della Transizione Ecologica sblocca la situazione, come vi dicevo. E poi ancora oggi il voto su Rousseau. Sabino Cassese, di spalla, eccolo, se la politica cambia rotta, la decisione del Presidente della Repubblica e la sua scelta di Draghi per formare un nuovo governo stanno spingendo le forze politiche a cambiare rotta. Nel rimescolamento delle carte la Lega riconosce le regole del gioco, così completando il suo accreditamento quale Partito Nazionale. Il Movimento 5 Stelle si avvia a continuare la sua trasformazione da un movimento antisistema a forza di governo. Questa è l'anticipazione di quanto scrive nel suo commento Sabino Cassese. Vediamo per un momento, però, apriamo anche una finestra per quanto riguarda la pandemia, i vaccini in particolare, ritardi sui vaccini. Von der Leyen, Ursula von der Leyen, vi ricordo, è la Presidente della Commissione Europea, dice ammette l'errore, siamo stati troppo ottimisti. E poi entriamo anche qui in Italia, le regioni fanno da sé, ci compriamo. Le dosi, ricorderete, ieri c'era stata qualche anticipazione proprio da parte del governatore del Veneto, Zaia, che aveva detto che noi vogliamo andare un po' per conto nostro, perché, voglio dire, si intendeva un po' forzare la tempistica per quanto riguarda la distribuzione e la somministrazione dei vaccini. Torniamo sul titolo di apertura di un altro giornale, Repubblica, il direttore Molinari. Allora, il titolo d'apertura, Draghi, Grillo, il patto verde, la nascita di un di castello per la transizione ecologica, convince il vertice dei Cinque Stelle, oggi il voto su Rousseau. Il Quirinale vuole il governo operativo entro una settimana, l'ipotesi di Giorgetti e buongiorno, Ministri per la Lega. E poi, Bonaccini, un'intervista proprio al governatore dell'Emilia Romagna, conta la spinta europeista, non il ruolo di Salvini. E poi, altri titoli, altri focus proprio sulla situazione politica. Ora resta il dilemma del PD, questo è il commento di Stefano Folli. Stefano Mancuso, l'agenda della biodiversità. Questa è la prima pagina di Repubblica. Vediamo la prima pagina della stampa. Draghi, fiducia da sei italiani su dieci, questo è il titolo deciso dalla direttore Giannini, sia il ministero Green, chiesto da Grillo, oggi voto degli attivisti, e la piattaforma Rousseau di cui vi dicevo, PD, con la Lega solo governo a tempo. E poi, Alessandra Ghisleri, perché non sarà un altro Monti, questo a proposito di un sondaggio che illustra la Ghisleri. E ancora, l'Italia appesa a Rousseau, questo è il commento di Massimiliano Panarari. Andiamo a vedere ancora altri giornali. Abbiamo il messaggero, un ministero Green, per il sì del Movimento 5 Stelle, Draghi sente Grillo, l'ok a un di castello della transizione ecologica, per chiudere entro sabato. 3-5 Stelle, ancora rivolta a se Berlusconi e Salvini, non accettiamo veti da nessuno. Gli errori da non rifare nella lotta alla pandemia, questo è il titolo del commento di Luca Ricolfi, cambio di strategia. E a proposito di pandemia, ecco il titolo centrale, no agli spostamenti tra regioni, questo è quanto ipotizza il messaggero, ma i governatori aprono allo sci. Nei prossimi giorni dovrebbe arrivare forse il via libera alla ripresa, alla riapertura degli impianti di sci. E poi l'esecutivo uscente prepara un provvedimento ponte da lunedì 15, perché appunto lunedì 15 febbraio c'è la scadenza di questo DPCM. Il tempo velocemente di vedere il titolo del fatto quotidiano, ma un ministero vale il sì all'ammocchiata, il vero quesito. Oggi gli iscritti di Movimento 5 Stelle votano su Rousseau, la piattaforma Rousseau. E allora, sono le 7 e 6 minuti, come sempre diamo la linea alla regia per qualche minuto, ci rivediamo subito dopo e riprendiamo la lettura dei giornali. Vi aspettiamo tra poco. 7 e 11 minuti, eccoci qui ben ritrovati. Allora, prima pagina del Sole 24 ore, andiamo a vedere come è il titolo sulla formazione del governo, telefonata Draghi Grillo, sia al super ministero ecologico. E poi le posizioni, vedete di Confindustria, Carlo Bonomi, le imprese Bonomi, sostegno convinto a Draghi, occorre fare presto e bene. Vi ricordo che ieri nel secondo giro di consultazione ha incontrato le parti sociali, tra cui sindacati e Confindustria. E allora, la posizione anche della Cisle, espressa da Anna Maria Furlan, proroga della Cassa Integrazione e blocco licenziamenti. La Cisle apre sulla scuola a giugno. Ancora, andiamo a vedere il domani, un'altra prima pagina. Draghi non teme i partiti, ma è il rischio della crisi sociale. Il premio è incaricato, ci ricorda appunto il giornale, ha incontrato banche, aziende e sindacati. CGL e Cisle Will chiedono lo stop ai licenziamenti, le moratorie sui mutui di famiglie e aziende sono arrivate a 300 miliardi. Il giornale, Italia appesa ai grillini, in mano ai toninelli, Draghi infastidito, tra parentesi cede al Movimento 5 Stelle o che è il ministero superecologista. Oggi il quesito truffa su Russo, ma la base è furiosa con Grillo. Nella foto vediamo Silvio Berlusconi e Matteo Salvini, si sono incontrati ieri nella nuova residenza romana di Silvio Berlusconi e hanno parlato certamente di governo libero. Sommossa nel Movimento 5 Stelle, i grillini mandano un vaffa a Grillo, questo è il titolo deciso da Libero, e poi Vittorio Feltri, non c'è decenza, ora si divertono a fucilare il povero Conte, così scrive Feltri. Vediamo il tempo, Salvini, Simi, Fido di Draghi, c'è un'intervista al leader della Lega, insieme cambieremo l'Italia, ok, pace fiscale, taglio dell'IRPEF, no a patrimoniale e nuove tasse, il futuro del paese viene prima, le idee del centrodestra saneranno i disastri di Conte. Questo è il titolo d'apertura del tempo. Vediamo la verità, gli affari cinesi, del super commissario, a tutto la verità torna sulla questione delle mascherine, ritirate le mascherine, farlocche di arcuri. E poi nella fotonotizia, vedete la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ammette sui vaccini, l'Unione Europea ha fatto un buco nell'acqua. Questo è quanto scrive la verità. Vediamo avvenire, ecco il governo Draghi, verso il SIA, il Ministero della Transizione Ecologica ed Economia Verde, al centro, confronto con le parti sociali, chiesta la proroga del blocco dei licenziamenti. Vedete forza un po' anche il titolo, il giornale diretto da Tarquinio, mea culpa dell'Unione Europea sui vaccini, in Europa 500 mila morti. E poi collaborazione è stata chiesa nella solidarietà, c'è un anniversario importante, quello della firma dei patti lateranensi, e vedremo che questa celebrazione in qualche modo ha a che fare anche con la formazione del governo, lo vedremo tra poco. Chiudiamo la lettura delle prime pagine con la Gazzetta dello Sport, senza tregua Agnelli Conte, pronta la procura, il mio miglior nemico. Lo sapete, c'è stato un battibecco l'altro giorno proprio tra i due. E allora, andiamo a vedere gli approfondimenti. Partiamo da retroscena, che ci aiutano a capire meglio quello che è successo nelle ultime ore. Partiamo dal Corriere della Sera. Perché? Perché qui sotto c'è un'intervista a Donatella Bianchi, presidente del WWF. e adesso capiremo perché è importante. Perché in realtà da questa notizia si sblocca, o meglio è l'indice, il sintomo che si è sbloccata la situazione con i partiti. E allora dice, noi insistenti su Via Libera, l'ex governatore è quasi sbottato. Dice, contenta del risultato politico, ieri è stata ricevuta naturalmente nell'ambito delle consultazioni come rappresentante dei movimenti ecologisti, del WWF in particolare, lo vedete proprio qui nella foto sopra, dice, abbiamo insistito talmente tanto che alla fine lui non si è tenuto e quasi sbottato. Si sta riferendo naturalmente al premier incaricato Draghi. Dice, contenta del risultato politico? Contenta se serve a dare presso al paese un governo questo conto, ma non c'è il rischio che la transizione sia solo una targhetta? Non credo proprio, il tema è centrale da tempo e per la prima volta abbiamo i fondi per investire. Dice, il ministro dell'Ambiente Costa ha detto che un dipartimento per la transizione c'è già, Cosa è stato ed è un ottimo ministro, non si tratta di andare contro di lui ma di rafforzare il suo lavoro. E poi l'ultima domanda è su una sua disponibilità eventuale a fare il ministro. Dice, mi farebbe piacere, non lo nascondo, ma credo che prima di me ci siano nomi ben più autorevoli. Allora, questa è la notizia che ha riportato sostanzialmente la Bianchi, ma è stata la notizia, come dire, forse lei è stata un'ambasciatrice inconsapevole, ma ha dato il via libera alla trattativa anche con i 5 Stelle, ha un'intesa sostanzialmente. Allora, Francesco Verderami nella sua retroscena, sempre sul Corriere della Sera, ci dice, allora, la notizia che temevano è arrivata al termine delle consultazioni, il Presidente del Consiglio incaricato ha fatto formalmente sapere alle forze politiche che per la formazione della squadra di governo verrà applicato l'articolo 92 della Costituzione, alla lettera tradotto, vuol dire che saranno solo Mattarella e Draghi a decidere la compagine ministeriale, scegliendo in piena autonomia i politici che ne faranno eventualmente parte. Prepariamo i sali perché si prevedono mancamenti, sospira un dirigente del PD rappresentando una condizione che accomuna anche le altre forze della futura maggioranza. Questo è quanto ricostruisce appunto Verderami. E ancora, che cosa dice? Era chiaro, andiamo qui in quest'altra parte, che Draghi non avrebbe potuto accedere alla richiesta nonostante il tentativo di mediazione del Presidente della Camera così come era chiaro che non avrebbe ceduto al diktat grillino pronto a fermare fino a venerdì il referendum. Concedeva solo 24 ore. Ed è stato in quel frangente che il tecnico ha mostrato doti di politico affidando ecco quello che vi dicevo prima legato alle parole di Donatella Bianchi affidando alla Presidente del WWF la buona notizia che il Presidente del Consiglio mi ha appena annunciato durante la consultazione ci sarà un ministero per la transizione ecologica. Quale sarà la struttura non si sa quali idee che gli verranno assegnate nemmeno che possa gestire la parte più cospicua del Recovery Fund è escluso ma tanto è bastato per esultare i grillini che appoggiano Draghi e che oggi apriranno e chiuderanno il referendum in orario d'ufficio dalle 10 alle 18 e allora a proposito proprio di questo vi faccio vedere subito sulla stampa qual è il quesito che viene posto sulla piattaforma russo eccolo qui sei d'accordo lo andiamo a evidenziare bene che il movimento sostenga un governo tecnico politico che preveda un super ministero della transizione ecologica e che difende i principali risultati raggiunti dal movimento con le altre forze politiche indicate dal presidente incaricato Mario Draghi e allora sulla piattaforma russo questo è il quesito al quale i sostenitori simpatizzanti del movimento dovranno rispondere dalle 10 alle 18 quindi come vedete è stata sbloccata la situazione proprio grazie al via libera a questo super ministero un altro retroscena in questo caso è scritto da Alessandro Barbera e Ugo Magri andiamo sulla stampa e allora tutti gli indizi dicono che Mario Draghi scioglierà la sua riserva la riserva sul suo incarico a Sergio Mattarella già domani a Palazzo Borromeo sontuosa sede dell'ambasciata italiana presso la Santa Sede erano pronti per la tradizionale celebrazione di firma dei patti lateranensi come abbiamo visto ci ricordava il quotidiano avvenire ieri mattina all'improvviso la comunicazione ufficiale del Quirinale eccellentissimi rinvio a data da destinarsi per dare buca così scrivono alle gerarchie vaticane per annullare organizzazioni inviti in viaggio in tempi di covid occorrono ragioni supreme la nascita di un nuovo governo è una delle poche scuse accampabili attenzione però quando c'è di mezzo l'ex banchiere centrale europeo Draghi dice inutile fare scommesse più si avvicina al momento delle decisioni più il suo volto assume i contorni di una sfinge e poi andando oltre ci si spinge anche su quelli che sono i nomi del nuovo governo ciascun partito scusate almeno un paio di grossi problemi per Grillo sono l'ex premier Conte Luigi Di Maio il segretario Pidini Nicola Zengaretti è atteso al varco da tre capi corrente Orlando Franceschini e Guerini Matteo Renzi vorrebbe accontentare una fra Maria Elena Boschi e Teresa Bellanova Matteo Salvini e Roberto Speranza hanno aspettative per se stessi questo è quanto viene ricostruito allora andiamo velocemente provo a vedere il toto ministri i nomi più o meno sono quelli di questi giorni ce n'è uno nuovo però che vi indico eccolo qui Claudio Graziano attualmente ha un incarico importante di prestigio a livello europeo però viene rientra nel toto ministri per quanto riguarda la difesa fino all'altro giorno era dato quasi per scontato una riconferma di Guerini appunto al di Castello che attualmente dirige vi segnalo rapidamente sulla stampa pagina 7 un'intervista ad Andrea Marcucci capogruppo DEM servono ministri validi adesso bisogna partire 5 stelle organici nel governo e poi un'altra intervista a Romeo leghista capogruppo leghista diciamo sì per responsabilità alle elezioni torneremo con fratelli d'Italia vi ricordo un'intervista sul fatto quotidiano a Giorgia Meloni allora 7,20 minuti e 50 secondi non ho fatto in tempo a ridarti i secondi che ti ho preso ieri Paolo mi riprometto di farlo nei prossimi giorni però una domanda veloce soprattutto per gli appassionati sono tre giorni che per il maltempo troppa neve a Cortina non si riesce a iniziare dacci qualche speranza a te Paolo buongiorno buongiorno per i secondi sai che corrono gli interessi poi comunque il problema è che come si diceva una volta troppa grazia a Sant'Antonio nel senso che quanti inverni sono stati senza neve quest'anno ce n'è stata troppa a Cortina l'altro giorno c'è stata anche la nebbia che ha fatto giustamente sospendere le gare e nei prossimi giorni c'è questo peggioramento freddo quindi io temo per dire che di neve ne arriverà altra e poi speriamo in un periodo un pochino più tranquillo un pochino più propizio perché poi noi cerchiamo delle cose precise nel tempo quelle che ci serve ci serve quel tempo in quel momento la situazione miglioramento come ci si aspettava piuttosto rapido rispetto alla giornata di ieri resta al sud peninsulare anche con qualche traccia di temporale fra Sicilia e Calabria è proprio lo strascico di questa perturbazione la cui parte più intensa è ormai andata verso est vediamo che cosa succede nelle prossime ore prima parte della giornata di oggi qualche debole pioggia residua ma ormai direi che insomma nemmeno quella e queste piogge ancora presenti al sud peninsulare nella seconda parte della giornata possibilità di queste debolissime piogge ma vedete che ci sono zone anche abbastanza libere quindi sembra veramente una giornata di completamento di questo miglioramento anche perché a ovest non si affaccia sembra che non si affaccia alle 8 vedremo che non è così che non si affaccia niente di nuovo ma guardate già la previsione per la giornata di domani ripresenta sul nord ovest sulle zone centrali un po' meno al sud ma qualcosa arriva anche lì di nuovo delle piogge deboli probabilmente non sono particolarmente intense però questa volta a ovest la previsione vedete almeno in Francia ci sono fenomeni intensi il peggioramento quindi arriva e arriva nella giornata di sabato in maniera un po' più blanda al nord passerà abbastanza rapidamente ma al centro e al sud in particolare sul versante tirrenico sono previsti fenomeni molto intensi vedete il giallo delle precipitazioni particolarmente abbondanti che questa volta però prendano anche il versante adriatico tenderà a migliorare un po' domenica lo vedremo sicuramente nella giornata di domani le temperature di questa mattina la prima discesa c'è stata ma dovuta più al fatto che il cielo si è rasserenato che ha un vero e proprio ingresso di aria fredda che ci sarà diciamo fra oggi e domani lo stato dei mari questo stato si riferisce alle prime ore di questa mattina non alla giornata perché è il momento peggiore ci sono i mari specie quelli occidentali rosso agitato o il giallo che vedete si avvicina a Corsica e Sardegna sul basso tirreno lo stretto di Sicilia il giallo è molto agitato quindi è 7 su 6 scusate su una scala di 9 molto ondoso molto forte in giornata tende ad attenuarsi quindi vi ho fatto vedere la situazione peggiore perché in realtà poi durante la giornata un poco migliora se volete ci vediamo intorno alle 7.55 adesso pubblicità e poi la prima edizione del nostro telegiornale con Fabio Angelicchio a più tardi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti